Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, se ancora non mi conoscete io sono Anna, sono una Makeup Artist oggi faremo un format completamente nuovo su questo canale che ho fatto veramente insieme a Sara dove commentiamo insieme le novità, però io quel che vorrei fare non è commentare insieme tutte le novità ma dirvi appunto quali sono le novità disponibili soprattutto qui in Italia è quello che reputo delle uscite interessanti non so nemmeno come intitolare questo video, credo che lo chiamerò se avessi soldi cosa comprerei una cosa del genere io sto praticamente sulla pagina Instagram di Trendmood qui vi metterò le foto dei prodotti di cui stiamo parlando e vi dirò prezzi, se sono già disponibili qui in Italia, sul sito di Sephora, Douglas eccetera e io direi di iniziare allora, parliamo di un'uscita che è già disponibile sul sito di Sephora e parliamo dei Cheeky Tint Blush Stick di Huda Beauty ci sono 5 colorazioni a disposizione, quindi li abbiamo tutte e 5 qui in Italia il che, insomma, non è male come cosa e vi dico ad esempio che, allora, questi blush sono quindi dei blush in crema dei blush in stick e mi ispirano tantissimo molto più, sono sincera, rispetto a quelli di Rare Beauty forse anche per una costruzione di texture cioè per come si presentano, proprio perché sono i stick e le colorazioni mi piacciono anche molto dalla più chiara che è Perky Peach quindi dovrebbe essere un pescato alla più scura che è un Berry quindi diciamo che Huda è anche molto brava con le colorazioni sia per incarnati chiari e anche per incarnati scuri è molto inclusivo come brand cioè almeno io, da quel che vedo anche con le palette che crea è molto, molto inclusiva io le sue palette riesco a utilizzarle su più incarnati cioè su incarnati anche molto più scuri rispetto al mio il prezzo qui in Italia è di ben 25,90 euro in dollari 25 dollari non capisco perché facendo anche il cambio adesso non so com'è la valuta euro-dollaro comunque quindi questa è la prima uscita diciamo che tantissimo mi ispira quindi se avete un Sephora vicino e potete anche sbocciare i colori io vi consiglio di darvi un'occhiata perché mi sembrano ottimi poi altra uscita che sono sincera sto valutando è quella di Pat McGrath per Bridgerton sul sito di Sephora vi metto qui la foto c'è la prima versione diciamo la prima uscita di Pat per Bridgerton che sarebbe quella con il pack celestino allora la palette occhi è bellissima io sono sincera voi sapete che amo Pat McGrath che amo le sue polveri ho una palette sua solo una perché comunque costano un rene diciamo che prendere vi dico la verità una palette di 6 ombretti 76,90 euro anche se sono meravigliosi sono sincera è leggermente sprecata cioè se avessi soldi a buttare via ok se non avete colorazioni simili o comunque cioè vi piace veramente tanto vi prende così tanto io vi dico sì prendetela perché comunque la qualità è non alta ma il top però se insomma avete un'altra palette nella vostra makeup collection secondo me 76,90 euro per 6 ombretti è veramente tanto troppo direi però una cosa che prenderei ad occhi chiusi se avessi la possibilità è la Divine Blush Glow Trillo Palette Viso quindi dove all'interno ci sono due blush ed uno illuminante in questa qui costa 62,90 euro però facendo un calcolo ecco costerebbe quanto un blush di Nabla perché un blush di Nabla costa 22 euro quindi bene o male siamo lì ecco non è esagerata come cosa e mi ispira tantissimo anche le colorazioni sono molto belle è l'illuminante spaziale forse perché comunque è nelle mie corde quindi mi piace mi piace veramente tanto e vi dico la verità non so quando arriverà in Italia quella rosa che vi metto comunque sia la foto qui della collezione quindi nella seconda diciamo sfornata di Pat per Bridgerton la Pat ha fatto un'altra palette e questa la palette occhi vi dico la verità mi piace un po' di più però io ad esempio ho tantissimi oro cioè l'unico colore veramente particolare è quel verde celeste in quel modo chiaro chiaro per cui però ecco mi piace un po' di più su Sephora ancora non c'è quindi non so se e quando arriverà la palette viso anche questa è molto particolare e vi dico la verità è un gioiellino la seconda palette con tre blush non illuminante è veramente un gioiellino anche da collezione insomma se amate la serie e amate Pat anche la collezione è bellissima non è tanto pratica da portare in giro perché da quel che vedo è abbastanza grande però insomma molto molto bella poi altra uscita molto interessante andiamo oltre oceano qui diciamo che è difficile che Jeffree Star arrivi con le nuove uscite Jeffree Star è rivenduto su Mario No però mi dispiace dirlo il sito di Mario No non è molto aggiornato nel senso gli sono rimaste vecchie collezioni tanti colori ad esempio di rossetti che magari mi possono interessare come Celebrity Skin che comunque è uno dei miei rossetti Jeffree Star rossetti liquidi di Jeffree Star preferiti non c'è sold out proprio ci sono tante cose sold out sul sito e comunque sia le novità non arrivano mai quindi io cosa faccio ogni volta che ci sono delle uscite appunto di Jeffree che mi interessano ordino su Beautylish il sito è un sito americano dove pagate una tassa doganale ma non pagate la dogana non mi è mai capitato di pagare la dogana io ho sempre acquistato Jeffree Star ma anche Ardell sul sito di Beautylish anche perché fino a qualche anno fa facendo il cambio euro-dollaro sinceramente mi mi conveniva e quindi andavo a comprare non lo so pacchi da 5 di ciglia finte piuttosto che anche alcuni brand che magari qui in Italia proprio non vengono rivenduti prima che Jeffree Star fosse rivenduto qua su Mario No appunto io acquistavo su Beautylish tranquillamente io ho acquistato tre palette da loro mi sono sempre arrivata in 15 giorni è tutto integro anzi mi ho acquistato e quattro di palette una l'ho anche regalata quindi insomma mi ci sono sempre trovata bene su questo sito e parentesi chiusa ultimamente sono sincera Jeffree Star non mi stava più entusiasmando più di tanto ho visto anche l'uscita della Beauty Killer 2 non mi fa impazzire vi dico la verità quando ha fatto la presentazione appunto di questa palette avendo acquistato immediatamente la 1 quando è uscita mi sono detto oddio Beauty Killer 2 sarà iconica anche questa però vi dico l'onesta verità non mi piace ma questa uscita mi piace tantissimo allora non c'è scritto l'uscita e comunque dicono arriverà molto presto sul loro sito e qua stiamo parlando di prodotti per gli occhi e sono dei delle polveri che danno agli occhi un effetto glossato e ci sono diverse colorazioni da quel che vedo dalla foto quindi dallo spoiler ho visto appunto due colori nelle foto presenti qua sul sito più l'uscita di un mascara la prenderei una colorazione effetto glossato anche perché ad esempio prendendo magari una colorazione chiara si riesce anche a sfruttare come top coat su altri ombretti quindi creare comunque dei colori dei make up particolari appunto con questo The High Gloss Powder e mi spiega tantissimo questo vi dico la verità poi altra uscita sono i nuovi rossetti di Revolution ho creato proprio dei kit un po' come Kylie di matita e rossetto liquido e tutte le colorazioni sono tutti nude un po' più rosato un po' più caldo sono sei colorazioni dal più chiaro al più scuro fino ad arrivare proprio ad un marroncino certo le prime quattro diciamo che sono per pelli chiare magari le altre due si possono adattare e l'unico sarebbe stiletto quello più da quel che leggo comunque quello più scuro appunto che si potrebbe adattare per un incarnato scuro però come uscita mi ispira tantissimo e vi dico la verità sono molto tentata di prendere uno di questi kit vi dico anche quando usciranno se ce la fa ok sono già disponibili molto probabilmente sul loro sito altro prodotto che ancora non è disponibile sul sito di sephora e che davvero mi ispira tantissimo soprattutto per quest'estate se riesco o meglio e se lo trovo nel punto vendita sephora gli darò sicuramente un'occhiata quando andrò a Catania e mi riferisco al nuovo fondolinta di Rare Beauty è un fondolinta da leggero a media coprenza il nuovo ed è un fondolinta anche con protezione solare a largo spettro quindi già la cosa mi piace che comunque abbia un SPF inoltre hanno fatto veramente tantissime colorazioni credo al momento di essere un 24N forse perché comunque il 10N è troppo chiaro io ho un sottotono neutro quindi il 24N oppure il 20W che sarebbe quello caldo e dai vi sbocce che vedo qui eh ci sono 24 shades che sono comunque che dicono coprire appunto un grande range di skin tone mi ispira tantissimo questa uscita ho visto alcuni video di altri influencer che hanno partecipato al press day di Sephora quindi con tutte le novità e questa era una di quelle novità tra quelle che ho visto che tanto mi hanno incuriosita quindi non so nemmeno il prezzo qui in Italia in America dovrebbe venire sui 29 dollari quindi qua sarà tra i 29 e i 30 euro molto probabilmente però vabbè lo vorrei provare sapete quest'anno comunque che sto molto in fissa con i fondotinta cioè l'avete capito poi altra uscita vi dico la verità in genere Cali Cosmetics non non tanto io non ho ancora nemmeno un prodotto di Cali Cosmetics perché non mi ispira tanto come come brand non chiedetemi il perché non so se su Douglas arriverà qualcosa sto controllando sul sito di Douglas è già disponibile qualcosa io non vedo niente nada zero trovo un tubo ancora non è disponibile non so se arriverà però vi dico la verità io ho tantissime palette nude ma questa cioè questa palette per come è composta a me ispira un botto perché uno mi grida a primavera proprio letteralmente i colori comunque sia sono molto belli anche una bella palette da utilizzare in poche parole nel quotidiano perché ci sono tantissimi anche marroncini molto chiari alcuni più freddi altri più caldi poi c'è quello che è un po' più pescato che comunque nelle mie corde c'è un fucsia c'è un viola il marrone scuro il nero c'è proprio molto 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 completa come palette quindi sono tutti matte comunque ma secondo me le palette cioè una palette totalmente matte è sempre da avere cioè se non le avete dico io ne ho tantissime sono sincera però se dovessi acquistare una palette completamente matte che abbia quella sensazione di palette completa cioè che io vi porto c'è praticamente tutto questa è di Kylie io vi dico sì non so la qualità perché non ho mai acquistato Kylie Cosmetics però ragazzi che vi devo dire cioè mi piace mi piace veramente tanto e anche la palette per il viso non è male l'unica cosa che mi lascia un po' diciamo a desiderare è il blush quello rosa chiaro perché dagli swatches che vedo lo vedo molto tenente al malva dovrei vedere comunque di presenza ecco per capire meglio però anche gli illuminanti sono molto belli mi piace mi piace davvero molto complimenti poi un'altra collezione veramente molto carina è la Everlasting Blooms di Essence allora mi ispira tantissimo vi dico la verità oltre al pack mi ispira tantissimo la palettina occhi è senza sapere che comunque è un brand low cost e la palettina molto probabilmente costerà pochissimo poi c'è un'ultima uscita Colourpop cioè poteva non ispirarmi la collezione di Colourpop è ovvio cioè mi sono innamorata di Colourpop c'è una palette in particolare occhi che è molto nelle mie corde ci sono tutti i marroni i pescatini i arancionini il bronzo insomma è proprio la palette che io prenderei ma oltre per la palette sarò sincera quelli che mi ispirano tantissimo sono i gloss la collezione è praticamente la Celestial Collection ci sono appunto tre palette per gli occhi e dei gloss che sono sei hanno da quel che ho capito una nuova formula voi sapete che gli ultimi gloss che io ho provato di Colourpop non mi sono piaciuti perché fanno troppo filamento questi colori comunque sia mi sembrano anche alcuni sono glitterati alcuni hanno dei riflessi comunque molto particolari sembrano anche duochrome alcuni quindi insomma mi ispira tantissimo ci deve essere sempre in qualsiasi collezione qualche pezzo che io vorrei che vorrei acquistare anche perché vi ricordo pure che che Colourpop è anche low cost l'unica pecca è che purtroppo dovete ordinare sul sito ufficiale perché non ci sono rivenditori qui in Europa per cui rischiate di pagare la dogana sarò sincera la prima volta che noi abbiamo acquistato da Colourpop non abbiamo pagato la dogana anche se abbiamo superato i 60 dollari al secondo giro che comunque io ho superato appunto i 60 dollari per avere le spedizioni gratuite ho pagato la dogana ho pagato circa una quindicina barra 20 euro non mi ricordo di preciso però sì l'ho pagata la dogana ma se appunto acquistate poche cose magari anche per provarle dovete tenere comunque il sito sott'occhio se avete le spedizioni gratuite e fate comunque sia ordini di 20 euro 30 euro se il caso pagate veramente una miseria di dogana oppure se il caso appunto non la pagate nemmeno nemmeno ve la fermano se avete qualche amica con cui magari fare un ordine e poi dividere in caso le spese doganali vi conviene quello è ovvio e nulla io spero che questo video vi abbia principalmente tenuto compagnia che vi sia stato utile perché avete scoperto appunto le uscite che a parer mio sono quelle un po' più allettanti e interessanti e nulla io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fin qui vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo martedì nel prossimo video ciao